L'Unione Industriale affronta il tema della cultura di genere e lo fa sensibilizzando le scuole. Una tavola rotonda si è tenuto al Palazzo delle Arti di Napoli in concorso con la provincia di Napoli, l'Università degli Studi Federico II e i sindacati CGL, Cisle e Will. È un'iniziativa tesa a far comprendere alle giovani generazioni la tutela e il rispetto nell'ambito della cultura di genere, portatrice di scambio reciproco e intesa. Ai nostri microfoni è intervenuta Anna Maria Schena, delegata alle pari opportunità dell'Unione Industriale. L'iniziativa di questo incontro l'abbiamo voluto per presentare questo progetto che si chiama Cultura di genere nelle scuole e che abbiamo varato un anno fa e che prevede degli ingressi fatte dall'Università Federico II nel Dipartimento di Psicologia, dai sindacati e da noi imprenditrici per parlare delle diverse discriminazioni, stereotipi e pregiudizi che ancora purtroppo ci sono nei generi. Quando l'anno scorso abbiamo iniziato si sono presentati a questo progetto nove scuole e altre quattro le abbiamo messe in lista d'attesa perché non potevamo seguirle tutte quante. Quest'anno sono 12 scuole, ci seguono 600 ragazzi, i ragazzi sono contenti perché hanno comunque maggiore consapevolezza rispetto a certi argomenti che è la discriminazione, che sono le dimissioni in bianco che purtroppo sono ancora presenti. Molto altro ancora stiamo facendo però lo presenteremo appunto stamattina.